CONOSCONO LE NOSTRE STRATEGIE Tutti i nostri punti deboli L'attacco degli alieni ci ha quasi annientati Questo non dovrà mai più accadere Se vogliamo sopravvivere, avremo bisogno di un nuovo tipo di soldato Qualcuno che non pensi nel modo in cui noi pensiamo E non tema le cose che noi temiamo Qualcuno che il nemico non si aspetta Abbiamo bisogno di menti come la tua, Ender Sarai il miglior comandante che abbiamo mai addestrato Quindi non sono il primo? No, ma sarai l'ultimo Farò l'impossibile per vincere questa guerra Tu non li vedi come dei bambini, vero? Se riuscirai, verrai ricordato come un eroe Ora!